Da Ruben arrivano persone in temporanea difficoltà e trovano un momento e soprattutto un luogo di ristoro. Ma Ruben è anche un luogo di partenza, anzi di ripartenza, verso il ritorno alla vita usuale, quella, cari commensali, da dove siete partiti prima delle difficoltà. Tutti hanno diritto al bello, anche quando non lo ricercate più perché è considerato all'ultimo posto tra le esigenze del momento. Non far fretta al tuo viaggio, meglio che duri molti anni e che ormai vecchio attracchi al viso la ricco di ciò che guadagnasti per la via senza aspettarti da Itaca ricchezze. Itaca ti ha donato il bel viaggio, non saresti mai partito senza lei, nulla di più ha da darti. E se la trovi povera, Itaca non ti ha illuso, sei diventato così esperto e saggio e avrai capito cosa vuol dire Itaca. Grazie a tutti. Chiedo a tutti. Chiedo a tutti. Chiedo a tutti. dell'addio appunto sul tema dell'addio e di un mancato amore giovanile di Chopin per questa Maria Bezinska che non potesse sposare perché Chopin era a quanto pare di famiglia troppo poco ambiente, questo almeno narra la leggenda, sappiamo che la vita di Chopin è stata molto romanizzata. La prima donna riceveva la leggenda d'honneur come compositrice, come musicista, è un brano molto amabile, questo L'Euratour che ci parla di un ritorno, che è un brano sereno ma in cui ogni tanto compaiono delle ombre, delle nuvole che così questo panorama dipinto dalla mesra di Cécile Chaminade. Grazie. Grazie.